salve a tutti oggi piccola recensione di questa food poch o tasca da manubrio acquistata da decathlon quindi prodotta da decathlon ma è della linea riverside che si differenzia la linea rockrider per essere un po più un po più rifinita e poi qui vediamo che lateralmente ha questa retina a porta oggetti ma francamente non so quali oggetti si potrebbero mettere forse un pacchetto di fazzoletini da naso infilarci una banana qualche barretta sì così come punti di ancoraggio vediamo questo inferiore che va sulla forcella ecco io l'ho agganciata l'ho regolata e poi ho recuperato la parte lo sfrido del laccetto e loro l'hanno veramente pensato bene perché ci hanno messo questo velcretto cucito di di sotto che una volta chiuso fa stare ordinato l'avanzo poi abbiamo questo velcro qui con diversi passanti quindi si può spostare volendo da un passante all'altro e poi abbiamo quest'altro velcro sono diversi due velcri e questo qui è il classico tradizionale questo qui invece presenta una superficie completamente adesso lo vediamo meglio che lo tolgo ecco era la prima volta che vedevo un velcro così con la superficie interna che sembra occhio lucida liscia e credo che abbia dei micro gancetti invece la parte esterna è pelosa come al solito e funziona come tutti gli altri non so adesso a livello di presa che differenza c'è con il velcro tradizionale ecco all'interno ci ho messo una bottiglietta da mezzo litro come vedete sparisce completamente e qui ha una pratica apertura e chiusura perché è fatta con due laccetti quindi con una mano sola mentre si vedala si riesce ad aprire tirando questo giallo ad aprire quindi la bocca e ad estrarre la borraccia e a richiudere tirando questo questo nero un po' di più Questa viene 5 euro e 90 mi sembra, porta questa borraccia da mezzo litro così, molto molto semplice, questa invece costa 24,90 ed è fatta molto meglio, questa è una borraccia da 750, ricordiamo di nuovo le proporzioni che chiaramente, guardate questa è alta più o meno 22 cm, anche 23 cm, se tiro su un po' qui il bordino, si siamo intorno ai 23 cm e grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.